Uno degli amici di Tominaga, che era con lui e che a sua volta è stato aggredito, racconta quello che è successo. Siamo andati a mangiare un panino in tranquillità, quando un giovane con il volto insanguinato è entrato nel locale per sfuggire all'aggressione che aveva subito da altri ragazzi. Nel frattempo sono arrivati anche gli altri e noi abbiamo tentato di convincere il gruppo ad allontanarsi e finirla lì. Il nostro intervento, che intendeva riportare la calma, ha generato l'aggressione nei confronti di Tominaga, che ha ricevuto un pugno violento in faccia cadendo a terra. A quel punto sono intervenuto anche io ed ho subito a mia volta un'aggressione, conclude il racconto l'amico di Tominaga, che ci ha chiesto di rispettare il momento difficile di dolore e lo shock e di rimanere nell'anonimato.